Aurora Ramazzotti, la prima uscita senza Cesare, un dopo la nascita con Goffredo al concerto di Lazza. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, esattamente un mese fa, sono diventati genitori per la prima volta. Lo scorso 30 marzo, infatti, è nato il piccolo Cesare e per l'occasione non mancheranno i festeggiamenti oggi in casa. Probabilmente anche insieme a nonna Michelle Hunziker. Nel frattempo, i due neogenitori si sono concessi un po' di svago lontano da pannolini e pappette per qualche ora. Aurora e Goffredo si sono scatenati a cantare i maggiori successi di Lazza, i due fidanzati. Ieri 29 aprile, hanno partecipato al concerto del rappero Milano, al Forum di Assago. Papà Goffredo, grande fan dell'artista, è stato ripreso dalla compagna Aurora mentre canta e salta uno dei brani più celebri di Lazza, Panico. Noi giovani, ha scritto Aurora Ramazzotti a corredo del video mentre si diverte insieme a Goffredo e ad alcuni amici tra cui Jonathan Kashanian. Per sottolineare scherzosamente di essersi data alla vita mondana per qualche ora. Dopo il concerto, un selfie di mamma e papà a volo in ascensore e poi dritti a casa dove ad attendergli c'era il piccolo Cesare.